Erba incolta, rami secchi accantonati e sporcizio ovunque. Così si presentava il 2 settembre scorso il cortile interno dell'ex caserma Paolini a Fano. Uno scenario poco gradevole segnalato alla nostra redazione e all'amministrazione comunale dai volontari della protezione civile. Ecco che cosa ci aveva raccontato il signor Flavio. Non puliscono mai, noi puliamo qui davanti, ma non possiamo correre dappertutto. Ci sono tanti rami secchi? E molti, guardi laggiù, guardi là, che dovevano portarli via 2-3 anni, 3-4 anni fa e neanche ancora sono venuti. E poi si va a vedere là di dietro, c'è un macello di sporchissia, carte, non pulisce mai nessuno. Un luogo dove incuria e degrado la facevano da padrona, ma in questi sette mesi sarà cambiato qualcosa? Le foglie e i rami sono ancora lì, accantonati da una parte e dall'altra. Questa era la sporcizia presente lo scorso anno, questa è quella che c'è ora lungo la strada e i marciapiedi. Cartacce, pezzi di cartone, bottiglie, involucri di plastica, ombrelli rotti, buste vuote di popcorn, di coriandoli e sacchetti della spazzatura. Il 2 settembre scorso alcune panchine erano rovesciate, oggi idem. All'interno dei lavandini inoltre erano ben visibili due borse da donna, una di colore nero e un'altra oro. Adesso se ne sono giunte altrettante, ma di colore rosa e viola. Il maltempo dei primi di marzo poi non ha di certo aiutato la situazione. Le forti raffiche di vento, oltre a rompere diversi vetri delle finestre dell'edificio, hanno provocato il crollo di un cornicione. Ancora lì, a penzoloni sopra le auto è dunque pericoloso per l'incolumità delle persone. Ma i pericoli si possono incontrare in diversi punti, come in questo caso, dove un grosso pezzo di cemento è situato proprio in un'area di sosta. Insomma, in tanti si augurano che sia l'immobile sia il parcheggio, che si trovano fuori dalle mura, ma due passi dal centro storico, possono essere dopo tanti anni sistemati e riqualificati.